Una tradizione Una tradizione che si ripete ormai da anni, ogni 6 gennaio a Calvenzano viene bruciata la Veggia. È sostanzialmente una vecchia che potrebbe essere identificata con la Befana e che rappresenta l'anno vecchio. Viene portata attraverso il paese con un corteo accompagnato dal corpo musicale e poi portata in largo 25 aprile dove viene Arsa. Diciamo che con il bruciare la vecchia si vogliono bruciare tutte le cose brutte dell'anno passato con l'augurio che il 2017, quindi l'anno nuovo, sia veramente migliore. E al termine di tutto, per concludere in bellezza, i fuochi d'artificio. Grazie a tutti.